Ho visto Datis e mi ha fatto cegno di andare da lui. Ci vuole bene a tutti e quattro. Non ci farebbe mai del male. Un gruppo di amici. Forse c'è sotto più di quanto lo sappiamo. Un mistero che si perde nel tempo. Io devo trovare Rick. Una premonizione che può cambiare il futuro della Terra. Questa volta con gli ai finti la vedrai tu. Perciò se sospettassi qualcuno di essere contaminato... Non lo farei allontanare da qui. Allora Datis. Il nostro acchiappasogni. L'acchiappasogni. Dreamcatcher. Martedì 21 e 20. Rai 4.